3 e adesso chi sente che sono legate le lasci legate di non sforzarle penso io a svegarle e si alzi dal suo posto di alzarsi dal posto grazie c'è Giuseppe il mio esistente bene prego si alzi per piacere si alzi si alzi non ti preoccupare non ti preoccupare Giuseppe si alzi non ti preoccupare alzatemi dal posto se non volete venire avanti venga 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 guardami guardami non vi preoccupate allora per favore tu come li senti le bagni legate si perfetto vieni grazie vieni qua di avvicinarsi oppure state in piedi dal posto di avvicinarsi grazie sapevo cosa sta succedendo tu Alessia stai prendendo in giro no no perfetto rimane così provate provate è utile fare alcune persone chi ha le mani legate per piacere qui davanti si avvicini se può da giù di alzarsi dal vostro passatevi voglio vedervi in palapas chi può chi ha le mani legate per piacere infatti vi fate vedere a chi c'è c'è Francesca con le mani legate e poi chi c'è Giucasi io legata Giucasi il problema è che se arrivano tutti qui e poi diciamo che è un po' sovraffollato il palco non ci credo Mara sono legata non ci credo Mara sono legata non ci credo Mara sono legata non ci credo mi sei incastrato l'avello non ci credo